Eccoci in diretta assieme a voi. Saluto subito Claudia Barachini, Project Manager di Friuli Innovazione. Buongiorno. Ben arrivata Barachini. Allora, intanto dobbiamo dire, voi nascete per dare, tra virgolette, la benedizione alle start-up, a chi insomma sa che cosa vuol dire innovare. Sì, diciamo, Friuli Innovazione, tra le varie attività a supporto dell'innovazione nel territorio, si occupa anche di supportare start-up nuove imprese innovative nella fase di avvio e quindi di sviluppo attraverso l'incubatore certificato che dà questi servizi. Possiamo spiegare per i non adatti ai lavori che cos'è l'incubatore certificato? Sì. Allora, l'incubatore certificato è un incubatore d'impresa, ovvero un'istituzione che individua, identifica idee innovative e le supporta nella fase di sviluppo del progetto imprenditoriale secondo la legge per le start-up innovative nazionali. Quindi per arrivare alla certificazione di start-up innovativa. Significa che questo tipo specifico di impresa ha delle agevolazioni, deve avere naturalmente di rispettare dei criteri e può accedere a determinate agevolazioni fiscali, agevolazioni... Senta Barachini, ma si dice che il Friulano è un popolo di lavoratori, ma nel momento in cui andate a parlare di innovazione, viene recepito subito o c'è qualche resistenza? Allora, diciamo, sì, Friulani sono un popolo di lavoratori, lavoratori e anche imprenditori nati, se vogliamo. Quindi noi non parliamo necessariamente di innovazione in senso astratto. Entriamo nelle aziende, verifichiamo le esigenze, verifichiamo i processi che sono già in atto, i bisogni delle aziende in termini di crescita e di sviluppo e portiamo là dove serve delle informazioni specifiche. Quindi il nostro interesse è quello di arrivare ad un supporto che veda anche dei risultati concreti nell'immediato. A questo proposito, già adesso, dopo la fase di Re-Covid, sappiamo benissimo che ci sono state delle difficoltà enormi su tutti i livelli, per le imprese, Friulani è partito subito con un servizio Restart FWG che dà la possibilità agli imprenditori di qualsiasi livello, micro imprese, imprese innovative, ma imprese anche del manifatturiero, del territorio, di individuare quali sono gli elementi che gli può aiutare nella fase di ripartenza. Senta, il sociale, glielo dico perché me l'ha suggerito Serena Fantini, quindi a ognuno il proprio, in questo hanno avuto un ruolo importante e di fatto sono quelle che sono partite per prime dopo il lockdown, forse non si sono anche mai fermate. Sì, sì, esatto. Allora, tra le varie attività noi ci occupiamo anche di innovazione sociale. Allora, va spiegato che cos'è. Innovazione sociale non è sociale to cure, non è imprese sociale e non è innovazione. Innovazioni sociali sono quelle idee innovative che rispondono delle sfide concrete, pratiche. Nella fattispecie, dopo la pandemia del Covid-19, era evidente che dai servizi di prossimità, servizi sociali, servizi agli anziani, servizi alle famiglie, all'educazione, c'erano tantissime esigenze e proprio le attività, le imprese e anche le associazioni, perché l'innovazione sociale si muove a confine tra il profit, il no profit e anche la società civile. Quindi, indubbiamente, quello che fa Friuli Innovazione in questo senso, collaborando anche col terzo settore, collaborando anche con le imprese, è quello di aiutare i progetti di innovazione sociale ad essere sostenibili. Che cosa significa? Che spesso questi progetti hanno necessità di un supporto manageriale e devono coinvolgere la comunità, perché questa è un'altra caratteristica di un progetto di innovazione sociale, che coinvolge direttamente diversi stakeholder, diversi portatori di interessi. Ecco, questi sono gli elementi su cui noi ci muoviamo, portando quelle competenze che vengono anche dal supporto alle startup innovative. ad esempio il design thinking, cioè individuare una soluzione ad un problema specifico con modalità creative, con modalità innovative. Questo è quello su quale operiamo. Senta, Covid a parte, le startup 2019-2020 sono in aumento? Le startup 2019-2020, indubbiamente, a causa del Covid c'è stato un rallentamento, è anche un momento di una fase di attesa. È intervenuta subito l'Unione Europea, perché le startup innovative e le startup in genere sono un asset importante, sono veloci, portano idee e possono intervenire subito nel portare soluzioni a esigenze abbastanza gravi, non solo appunto per quanto riguarda l'ambito della sanità o dell'educazione, ma anche dell'economia. Allora, a questo proposito, Frio Innovazione opera dal 2018 a supporto appunto di idee ad impatto sociale e innovativo e proprio in questi giorni, a settembre, noi partiamo subito con due offerte formative che si realizzeranno online. Sono due webinar nella fattispecie. Uno, il primo, si terrà il 2 settembre, quindi fra pochi giorni, e sarà tenuto da Sara Tortelli. Andremo a toccare e ad analizzare la social media marketing su misura per le imprese ad impatto sociale. Quindi una carrellata sui diversi social media, individuando quelli che sono meglio, possono essere più utili per le promozioni di determinate idee. Poi il 3 settembre, sempre un webinar online a partire dalle 16.30, con Giovanna Tosetto, esperta di turismo ed esperta di comunicazione, andremo ad analizzare le 10 regole della business etiquette. Che cos'è la business etiquette? Sono quelle regole non scritte che ci permettono di fare o incontrare potenziali clienti, potenziali partner, potenziali stakeholder per sviluppare il nostro progetto. Quindi la comunicazione durante l'incontro diventa ancora più importante quando le culture sono diverse. Noi siamo in una regione di confine, per cui incontrarsi con un potenziale partner sloveno, un potenziale partner austriaco, conoscendo le rispettive culture e le prassi nella comunicazione, è estremamente importante. Durante questi due webinar andremo a promuovere e a dare maggiori informazioni su un corso per l'educazione imprenditoriale, aperto tutti, quelli che sono interessati e che possono avere un'idea, che si terrà a partire dal 10 settembre. Ecco, queste sono opportunità importantissime, soprattutto in questo periodo, perché l'azione che noi possiamo fare sul territorio è quella di migliorare le nostre competenze. Quindi in primis non parliamo di un miglioramento del progetto imprenditoriale se non dei titolari di queste idee, di questi progetti. Dobbiamo acquisire maggiori competenze per sapere come gestire un progetto di questo tipo e farlo durare, farlo diventare vincente. Ecco, senta, mi puoi dire quali sono le start-up che vengono premiate più velocemente dal mercato? Allora, questa è una domanda importante perché il supporto alle start-up si basa da subito su una verifica sul mercato. Non dobbiamo aspettare il completamento di un business plan, non dobbiamo aspettare il completamento del prodotto finale o del servizio finale. Da subito la start-up o il titolare di un progetto ad innovazione sociale può verificare se l'idea funziona o non funziona e soprattutto può acquisire quei dati utili per aggiustare l'idea in corso d'opera. Quindi sono vincenti quelle start-up che iniziano questo processo il prima possibile. Che parametri tenete in considerazione? Noi teniamo in considerazione naturalmente il team, quindi le competenze all'interno del team che devono essere multidisciplinari, poi naturalmente specifiche a seconda del settore. Teniamo in considerazione le metriche che ci sono nella fase di validazione sul mercato. Quindi se parliamo, non so, di un servizio che si basa su servizi erogati attraverso piattaforme online, questo è facile perché vediamo subito gli utenti, e vediamo subito l'utilizzo del servizio e così via. Senta, ma lei mi ha parlato di team, ed è una domanda che ho fatto anche a una sua collega. Ma è facile fare gruppo, visto che noi siamo bravi, no? Tira su recinti a dire combini io nel tempo di urlano. Allora, è facile fare gruppo nella misura in cui io sono consapevole delle mie competenze comunicative e del mio approccio verso l'altro. È facile se mi alleno. Questo proposito, noi come Friuli Innovazione abbiamo organizzato in presenza, adesso ci siamo mossi sulle piattaforme digitali, per organizzare attività di teamwork tra soggetti diversi, che possono avere un'idea imperitoriale, possono portare competenze, ma non necessariamente essere interessati a sviluppare un'idea. Però il fatto di lavorare assieme ad un progetto nel corso di una giornata, una giornata e mezza, aiuta ad acquisire quelle competenze di comunicazione di team work, quelle soft skills, per capirci, che sono adesso fondamentali. Noi vediamo tra i giovani, possiamo dire che queste attività, queste competenze sono più sviluppate, sicuramente, ma ci sono molte persone di tutte le età che partecipano alle nostre attività e che in poco tempo acquisiscono queste competenze. Senta, abbiamo ancora due minuti, provi a convincermi, a dirmi tre buoni motivi per innovare. Allora, è importante innovare perché è un movimento innato nella natura dell'uomo e nella natura, naturalmente, dell'impresa. È importante innovare perché ci permette di crescere come persone, poi se abbiamo un progetto, un team, come impresa. È importante innovare per creare valore aggiunto sul territorio, creare maggiore occupazione, soprattutto nel nostro territorio, che è un territorio che si pone a confine con la Slovenia e l'Austria. Abbiamo una vicinanza che ci permette di valorizzare anche, quindi, l'internazionalizzazione. È importante innovare perché grazie, appunto, ad attività trasversali, come quelle proposte da Fiorinnovazione o altri centri di innovazione sul territorio, è facile farlo in breve tempo. Quindi questo sicuramente è un elemento fondamentale. Allora, io ringrazio Claudia Barachini, project manager di Friuli Innovazione. Un saluto anche a Serena Fantini, che di fatto è il tramite per il quale siamo poi arrivati alla signora Barachini. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ancora un po' di rassegna stampa. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ancora un po' di rassegnappi. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ancora un po' di rassegnappi.